Buon pomeriggio a tutti, io sono Simone Scardapane, a differenza di quelli che mi hanno preceduto sono un dottorando della sapienza e quindi voglio cominciare ringraziando sicuramente gli organizzatori di questo evento, in particolare Antonella e Alfredo per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di parlarvi per un'oretta di quello che ritengo essere uno dei prodotti migliori delle librerie di Google, nella mia piccola conoscenza che ho delle librerie di Google, ovvero le Google Prediction API. Allora, il talk è più o meno diviso in tre parti, inizio introducendo rapidamente cosa sono le Prediction API e come si utilizzano, questa forse è la parte un po' più atipica dell'intera giornata, mi dilungherò un pochettino sul loro effettivo utilizzo, sarà la parte un po' meno tecnica diciamo. Poi passeremo a vedere due casi d'uso reali, quindi vi guiderò dall'inizio fino alla fine di due piccoli prodotti che utilizzano le Prediction API, il primo preso direttamente dal tutorial di Google, quindi vedremo come sostanzialmente riconoscere la lingua di un testo e il secondo preso dalla mia esperienza personale, penso che vi possa interessare, sia un prodotto per la classificazione automatica dei brani musicali. E infine credo che ci rimarrà un po' di tempo, quindi vedremo alcune piccole funzionalità avanzate per avere un po' un quadro generale delle Prediction API e infine concluderemo e accetterò le varie domande. Mi piacerebbe cominciare il talk facendovi veramente capire perché sto qua a spiegarvi le Prediction API e perché state qua a sentirmi parlare e quindi prima di dirvi direttamente cosa sono le Prediction API mi parebbe piacere farvi sentire in necessità di utilizzarle. Ecco, vi voglio far sentire in una situazione in cui avete poche scelte se non veramente rivolgervi a uno strumento come questo e quindi facciamo l'esempio di essere questo sviluppatore web che a un certo punto della sua carriera ha questa necessità che all'inizio gli può sembrare un po' triviale. Ha questa necessità di prevedere il traffico web sulla propria applicazione, quindi vuole sapere nei prossimi giorni più o meno quanti visitatori avrà sul proprio sito. Questo insomma per una serie di motivi ad esempio ha deciso che vuole rilasciare nuovi contenuti solo quando è previsto un picco, questo può essere utile per generare una sorta di circolo virtuoso, oppure si ostina a tenere i propri server in cantina e ha bisogno di tarare un pochino le loro performance. Questo può sembrare triviale ma in realtà Google stessa nella sua struttura di cloud ha bisogno di prevedere il traffico di tutte le applicazioni che sono sulle sue macchine, quindi ha bisogno di bilanciare le varie macchine virtuali, quindi sembra una cosa un po' stupida ma in realtà è uno dei cuori dell'infrastruttura che c'è dietro al cloud e quindi insomma di tutta la giornata di oggi. Come si fa a prevedere il traffico su un sito web? Beh penso che siate insomma convinti che è almeno in parte prevedibile, potete vedere alcuni trend generali, ad esempio durante le festività o durante i weekend tipicamente il traffico di un sito aumenta. Prevederlo nella breve durata, quindi per i prossimi giorni non è facilissimo, la prima cosa che bisogna decidere è cosa si può utilizzare per prevedere questo traffico, quindi cosa dare in input al nostro sistema perché questo ci possa restituire l'effettivo traffico nei prossimi giorni. Sicuramente la prima ipotesi, la più semplice è supporre che dipenda dal traffico nei giorni precedenti, quindi ad esempio sapendo il traffico che c'è stato sul vostro sito web nei scorsi sette giorni, sette giorni passati, potreste tentare di dedurre quale sarà nei prossimi due giorni. Ma potete anche dire alcune altre cose come quella che abbiamo visto prima, ad esempio decidere che potete dare al vostro algoritmo in input un parametro che gli dica se siamo vicini o meno a una festività, un giorno festivo o ancora potreste basarvi su dei parametri indiretti, quindi potreste dirgli quanti link avete conteggiato in entrata al vostro sito. È chiaro che se voi avete 50 pagine che puntano al vostro sito, normalmente dovreste avere più visitatori che non se ne aveste solo 5, chiaramente più o meno a parità di importanza delle pagine. Di queste ipotesi che potete fare a decine, potremmo stare qua a slide e slide a mettere possibili parametri che vi potrebbero aiutare, però a un certo punto dovete smettere di fare ipotesi, supponete che prendiate solo questi parametri e dovete costruire il modello vero e proprio. Questa costruzione dell'algoritmo non è affatto triviale. Non so quanti di voi abbiano un background scientifico, insomma ingegneristico di questo tipo, ma modellare il processo delle visite non è facilissimo. A quel punto, insomma, lo sviluppatore web che siamo noi si dispera per un pochino di tempo e poi si ricorda di una cosa molto importante, ovvero che lui pur non avendo nessuna magari conoscenza matematica, dà la sua a tantissimi dati. Quindi se ad esempio sono circa due anni che il vostro sito è più o meno a regime, avete 730 giorni di dati, loggati ad esempio sul vostro server Apache o loggati su un qualche strumento di management del vostro traffico web di dati sul vostro traffico. Quindi voi per 730 giorni sapete qual è stato il traffico del vostro sito. Ora semplifichiamo un pochino rispetto a quello che abbiamo detto prima e supponiamo che voi vogliate prevedere il traffico solo in base agli ultimi sette giorni. Quindi voi volete un modello, un algoritmo, un programma che dati in input agli ultimi sette giorni di traffico vi dica quanto traffico ci sarà domani ad esempio o dopo domani. Questo se avete 730 giorni vuol dire che anche se non avete nessuna idea di quello che effettivamente farà questo algoritmo, avete 723 esempi di quello che effettivamente dovrebbe fare. Ad esempio se prendete i dati di marzo, sapete che dal primo al 7 marzo di quest'anno avete avuto determinati visitatori, non lo so, 51 il lunedì, 121 il martedì, 12 il mercoledì e così via. E sapete che di conseguenza la domenica di quel giorno avevate avuto 81 visitatori. Allora sapete che il vostro algoritmo, anche se ancora non ce l'avete, se voi gli passate quei sette giorni, i primi sette giorni di giugno, quei numeri, dovrebbe restituirvi, cosa ho detto prima, 71 visitatori, quello che ho detto prima. Quindi insomma non avete idea di quello che effettivamente deve fare l'algoritmo, ma avete tantissimi esempi del suo comportamento e quindi vi chiedete se non sarebbe bello se ci fosse un qualche programma che in automatico riuscisse a elaborare tutti questi dati e in automatico ad estrarvi l'informazione che state cercando. Quindi in automatico ad estrarvi il modello, la relazione che avete rappresentato con questi esempi. E beh questo è esattamente quello che fanno le prediction API e che in gergo un pochino più tecnico si chiama machine learning, quindi apprendimento automatico. Cosa fa l'apprendimento automatico? Ci sono tante definizioni un po' più tecniche, un po' meno tecniche. Diciamo che in linea di massima quello che fa è partire dai dati, quello che prima avevamo chiamato esempi, quindi tutti gli esempi di visite sul vostro sito, di input al vostro sistema e di output, la predizione delle visite al vostro sito, fare un qualche processo che viene chiamato training, allenamento, quindi come voi vi allenate a giocare a calcio, l'algoritmo si allena analizzando i vostri dati a darvi la risposta corretta al vostro problema. Questo completamente in automatico, quindi solo esclusivamente guardando i vostri dati, analizzando i vostri dati, tira fuori un modello di quello che quei dati rappresentano e chiaramente un'accuratezza stimata di quel modello, quindi vi dirà che quel modello nel 90% dei casi sembra funzionare bene, un parametro stimato diciamo. E tutto questo processo è quello che è stato chiamato con un po' di fantasia apprendimento, un pochino per analogia con quello che facciamo tutti i giorni, quindi insomma elaboriamo dati su dati e tiriamo fuori conoscenza generale, quindi ci astraiamo dai dati, generalizziamo e questo è esattamente quello che fa una procedura di apprendimento automatico, quindi parte da un insieme di dati che avete costruito e cerca di generalizzare e di costruire un modello generale. Se avete capito un pochino questa struttura, una volta che avete questo modello chiaramente potete utilizzarlo, se quello è il modello del vostro traffico web potete dargli in input gli ultimi sette giorni di traffico e farvi dire quale sarà il traffico nei prossimi giorni. Se avete capito più o meno questa struttura, avete capito più o meno anche le prediction API. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio l'architettura delle prediction API prima di fare un esempio pratico. Quindi ci siete voi e c'è il lato cloud di cui stiamo parlando da questa mattina. Del cloud avrete bisogno sia del cloud storage come hanno detto prima dove dovrete appoggiare i vostri dati, sia c'è il prediction engine che è quello che cercherà di tirare fuori il modello dei vostri dati. Voi avete costruito un file di testo, un file CSV semplicemente, in cui avete collezionato tutti gli esempi del modello che volete ottenere. Quindi ad esempio avete messo i 723 esempi degli ultimi due anni di traffico con input e output previsto dal programma. Tutto quello che dovete fare in una prima fase è caricare questi dati sul cloud storage in una delle maniere che avete visto nell'ultima ora. Quindi potete caricare automatico tramite API, noi vedremo la console web e caricate una semplice copia dei dati che sta sul cloud storage e quindi a cui i prodotti Google possono accedere in maniera automatica. A questo punto fate una richiesta al prediction engine. Io ho chiamato prediction engine, non so se si chiama prediction engine, comunque era un bel nome. Voi gli dite guardate, guarda, ho messo i miei dati sul cloud storage, stanno in questo bucket, si chiamano così, prendi e vedi un po' che cosa ci puoi fare, vedi un po' se riesci a tirare fuori un modello accurato di tutti i miei dati. Allora quello che il prediction engine fa, è vero che suona bene, si va a prendere i dati, si riporta al suo interno e in una qualche maniera automatica che voi non conoscete si tira fuori un modello e vi dice guarda questo modello per me è accurato al 87% oppure questo modello per me è accurato al 92%. Voi non conoscete questo modello, quindi non sapete come è stato estratto, non sapete come è fatto e non sapete come si utilizza, sapete che sta là e più o meno funziona in una certa maniera. Tutto quello che avete dovuto fare è decidere cosa passare in input, decidere cosa avere in output e costruire un numero sufficiente di esempi. Chiaramente se l'accuratezza non vi piace potete tornare al punto di costruzione dei dati, ad esempio includere nuovi input o includere nuovi esempi o cambiare la tipologia dell'output. Ma insomma arriverete a un punto in cui questo modello vi sembra che funzioni sufficientemente bene. Questo modello a questo punto è nel cloud, è fermo, aspetta semplicemente che qualcuno gli faccia una richiesta. Quindi tramite una seconda chiamata a questa API fate una richiesta di predizione al vostro modello. Quindi dite ad esempio se questo è il modello per prevedere il traffico web gli dite guarda negli ultimi sette giorni io ho avuto 21 visitatori, 57 visitatori, 43 visitatori eccetera 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 e Google vi dice ok secondo me domani avrai 121 visitatori e voi prendete questo dato un pochino come per magia visto che voi oltre questo livello non vedete nulla, non sapete come è fatto il modello. Qualche piccolo dato tecnico su queste su queste API. La cosa più importante, la cosa che le differenzia da quasi ogni altro prodotto di machine learning è che sono completamente automatiche, quindi voi non avete veramente nessuna idea, nemmeno io che insomma conosco abbastanza modelli di machine learning non ho idea di cosa Google utilizzi al suo interno, questo perché è in costante aggiornamento per cercare di migliorare l'accuratezza dei suoi modelli e quindi dare un accesso più low level sarebbe controproducente diciamo. E la chiamata di allenamento tra l'altro è asincrona, quindi se il vostro modello deve analizzare diversi terabyte di dati potete semplicemente dirgli guarda comincia a allenare e prima o poi continuare a fare delle richieste per sapere quando questo allenamento è concluso. Un secondo punto è che è possibile aggiungere nuovi dati, quindi supponete di avere questo modello del vostro traffico web, tra tre mesi avrete nuovi dati, quindi ogni giorno vi arrivano nuovi visitatori, ogni giorno avete nuovi dati sul vostro traffico e a un certo punto potete decidere di prendere questi dati e di passarli all'algoritmo per migliorare la sua accuratezza. Questo è quello che viene detto allenamento online, sempre per inventarsi nuove parole. Tra l'altro l'algoritmo è molto flessibile, prende in input sia elementi numerici, quindi può prendere numeri interi, può prendere numeri reali, sia input testuali, quindi può prendere caratteri, può prendere stringhe di lunghezza variabile, questo in maniera completamente trasparente e può dare in output sia valori discreti, sia valori continui. Quindi nel caso di valori discreti, ad esempio potreste dirvi che ci sono pochi utenti, tanti utenti, tantissimi utenti, questo sono solo tre classi e quindi viene chiamato il problema classificazione. Nel caso invece di output continui viene detto regressione, ad esempio se volessimo predire la temperatura nella stanza o se volessimo vedere il numero esatto di visitatori come un valore continuo. Andiamo un pochino più nel dettaglio a vedere come sono fatti questi dati, quindi come vi ho detto tutto quello che dovete costruire è un file csv che poi caricate sul cloud storage. All'interno di questo file csv avrete una riga per ogni esempio che avrete costruito, quindi all'interno della riga ci sarà l'output desiderato e l'input di quell'esempio, diciamo, quindi dato un input gli dite quale dovrebbe essere l'output che voi vi aspettate. L'output è nella prima colonna, in questo caso è un file in cui cercate di dedurre l'età di una persona a partire da altri suoi dati, è l'esempio che fa Google, non so di preciso perché, quindi come vedete ad esempio nella prima riga voi state cercando di predire l'età di qualcuno, dell'altezza scusate, di qualcuno che è alto un metro e settant'uno. Tutti gli altri campi sono i campi di input, quindi ad esempio nella prima riga state dicendo a Google che questa persona che è alto un metro e settant'uno è un maschio, ha il padre che è alto un metro e settantaquattro, la madre che è alto un metro e sessant'uno ed è francese. Quindi gli state dicendo, dati questi quattro dati devi imparare a dirmi che questa persona è alta un metro e settant'uno. I vari campi sono separati fra loro da una virgola, i campi testuali sono separati dai campi numerici perché sono racchiusi tra virgolette. Quindi il file è molto semplice, se puro testo lo potete costruire in maniera molto semplice ed è il vostro unico task, diciamo una volta che avete questo file il resto del processo è praticamente automatico. Due piccole note sul costo di questa operazione, avete un utilizzo gratuito delle prediction API che parte, che vale sei mesi dal momento in cui lo attivate per il vostro primo progetto, quindi dovete attivare all'interno della console. Potete fare con questo account gratuito circa 100, cioè non circa, esattamente 100 predizioni al giorno e analizzare 5 megabyte di dati al giorno. Se desiderate di passare a pagamento questo costa 10 dollari al progetto per mese e vi permette di fare 10.000 predizioni. Oltre queste dovete pagare circa 50 centesimi di dollaro, scusate, ogni 10.000 predizioni e 2 millesimi di dollaro ogni megabyte di dato analizzato. In un progetto diciamo di media grandezza avrete dei file che magari sono puro testo, quindi non supereranno le qualche megabyte, dovrete fare qualche decina di migliaia di predizioni e quindi finirete a spendere tipicamente dai 20, 30, 40 dollari. Che insomma per un servizio avanzato di questo tipo non è male, se voi voleste una licenza di un prodotto di machine learning che fa queste cose potrebbe costarvi molto molto di più e soprattutto essere molto molto più complesso da utilizzare. Vediamo adesso due semplici casi d'uso che eseguirò tramite l'explorer, insomma vi farò vedere come sono eseguiti tramite l'explorer dell'API. Chiaramente in un caso reale siete interessati a interfacciarvi da altre applicazioni, in questo caso le prediction API vi mettono a disposizione circa 11 librerie per 11 linguaggi di programmazione, quindi da Go, Java, C++, Python, R, insomma chi più ne ha più ne metta, potete interfacciarvi da Google Apps Script se vi piace insomma far interagire fra loro i vari prodotti Google, se avete un sistema Unix potete anche interfacciarvi da un terminale Bash. Tra l'altro verso la fine rimane abbastanza tempo quindi vi farò vedere anche un piccolo esempio di programma scritto in Java che utilizza le librerie, le SDK delle prediction API. Passiamo al primo caso d'uso, questo l'ho preso direttamente dal tutorial di Google, quindi vi guiderò semplicemente passo passo in questo tutorial, in cui l'obiettivo è avere un qualche programma che riesca a riconoscere in che lingua è scritto un testo. Questo non sembra una cosa impossibile, insomma sono sicuro che potreste inventarvi qualche maniera strana appoggiandovi a dizionari per capire in che lingua è scritto un testo, questa è comunque una soluzione molto semplice e molto elegante, quindi tutto quello di cui avete bisogno se avete seguito il mio ragionamento prima è un testo, un file di testo in cui elencate alcune frasi scritte in varie lingue e dite al programma in che lingua è scritto quella frase. Ad esempio questo è un esempio di estratto da uno di questi file in cui gli date una frase presa da Alice nel Paese delle Meraviglie in cui gli dite questo è inglese, una frase presa da Ovidio in cui gli dite questo è latino. Nel mio caso ho utilizzato un file che proprio vi dà a disposizione Google, quindi ha circa 400 istanze divise fra inglese, francese e spagnolo, quindi ottenete un programma che impara a dirvi se una frase è in inglese, in francese oppure in spagnolo. Vediamo un pochino, il primo passo quindi è caricare il vostro file sul cloud storage, qua ho scelto di utilizzare la console web del cloud storage, quindi quello che semplicemente dobbiamo fare, ricalcando un po' anche i passi visti prima, creiamo un nuovo bucket dove andiamo a caricare i nostri dati, oppure utilizziamo un bucket già esistente se già ce l'avete, in questo caso lo chiamiamo romprediction underscore language data, una volta che abbiamo il nostro bucket possiamo caricarci tutti i dati che ci servono, quindi in questo caso selezioniamo upload, avremo il nostro file di testo che ci siamo costruiti da qualche parte sul nostro computer e lo carichiamo online, quindi abbiamo una copia del nostro file sul cloud storage e a questo punto questa copia è accessibile a tutti quei programmi Google a cui date il permesso. E adesso possiamo passare effettivamente alle prediction API che hanno circa 8 possibili chiamate, noi ne vedremo 5 o 6, le principali sono 3, quindi quelle che vi servono sono tipicamente esclusivamente 3, la prima è chiaramente quella in cui gli dite di cominciare l'allenamento di un modello, quindi è la chiamata con cui dite a Google, guarda c'è questo file di testo, sta qua, cerca di estrarmi un modello di questi dati, quindi cosa gli dovete passare? Sicuramente dovete passargli un ID che identificherà il vostro modello, quindi quando in seguito vorrete andare a richiamare questo modello, dovrete passargli questo ID che in questo caso non so se riuscite a leggere, è language identifier. La seconda cosa che dovete passargli è l'identificativo per dirgli dov'è ovviamente il file di allenamento, quindi un percorso all'interno del cloud storage è identificato dal nome del bucket e dal nome del file, quindi in questo caso gli diciamo che il nostro file sta in romprediction underscore language data slash il nome del nostro file che si chiama language.d.txt. Una volta fatto questo, questi sono tutti i parametri che dovete passare all'algoritmo, è asincrono, la chiamata è asincrona, quindi se tutto va bene vi restituisce un HTTP 200 e vi dice ok, l'allenamento è cominciato, basta. A questo punto avete una seconda chiamata molto importante che è trainedmodels.get che vi permette di ottenere delle informazioni su un dato modello di cui avete cominciato l'allenamento. Tra queste informazioni c'è quella più importante, ovvero se l'allenamento è effettivamente finito. Quindi cosa gli dovete passare? Questa è ancora più facile di prima, dovete solo dirgli gli ID del modello di cui volete ottenere le informazioni. Il modello lo avevamo chiamato language identifier, quindi qua gli diciamo dammi tutte le informazioni che hai su questo modello. Eserbiamo la query e Google ci restituisce nuovamente una risposta di ok in cui nel corpo ci sono una serie di informazioni su questo modello, tra cui ad esempio la data in cui è stato creato il modello, la data in cui è finito, terminato l'allenamento del modello, se è terminato ovviamente l'allenamento, da queste due potete vedere più o meno quanto è durato l'allenamento, qua non ho fatto i conti due secondi mi pare circa. Il numero di istanze, quindi qua l'abbiamo allenato su 406 esempi di divisi nelle tre lingue, il tipo di modello, quindi qua abbiamo tre output, inglese, francese o spagnolo. È un output discreto, quindi Google ci dice che questo è un problema di classificazione e tra l'altro ci dice che c'erano tre label in uscita, quindi esattamente inglese, francese e spagnolo. Ci dice poi l'accuratezza, questo modello, ovviamente l'esempio di Google quindi è un'accuratezza elevatissima, siamo al 98%, 0,98, ovvero ci dice che statisticamente nel 98% dei casi quando gli passate una stringa riesce a identificare in che lingua è scritta. E ovviamente in realtà quella che ci interessava di più è questo label che ci dice se l'allenamento è terminato, è ancora in corso oppure per qualche evenienza è fallito. Una volta che l'allenamento è terminato, se l'accuratezza ci soddisfa, il modello ovviamente è utilizzabile per fare nuove predizioni. E a questo punto entra in gioco il terza chiamata che ci interessa che è trainedmodels.predict in cui voi dite a Reprediction API, guarda, quello è il modello, questo è il nuovo input, dimmi cosa predice quel modello. Come funziona? Nuovamente dovete passare l'identificatore del vostro modello, quindi nuovamente language identifier, poi avrete un campo input all'interno del quale c'è un campo csv instance, all'interno del quale avete l'input al vostro sistema, scritto nello stesso formato in cui lo avete scritto nel file csv. Quindi in questo caso c'è una sola singola stringa in input, scritta in francese in questo caso, che giorno della settimana è. Se ci fossero più input semplicemente li separereste la virgola come avete fatto nel file di testo. Eseguiamo questa chiamata, Google ci risponde dandoci una serie di parametri tra cui il più importante è sicuramente l'effettiva predizione del sistema. Quindi in questo caso ci dice che il modello ha predetto che questa stringa è scritta in francese, ovviamente è corretto, tra l'altro l'accuratezza di questo modello era molto molto alta, quindi insomma ci si poteva aspettare che ci azzecchasse. Ci passa anche un secondo elemento che è molto interessante, che sono i cosiddetti confidence score. Quindi ci dice quanto è sicuro della sua predizione, o meglio quanto è probabile ciascuna altra predizione. Questo è comodo perché ci dice non solo che lui ha predetto una determinata cosa, ma anche se quella cosa effettivamente è sicura oppure è un pochino confusa con qualche altra classe in uscita. Ad esempio qua questo è il 35%, il 32% è abbastanza sicuro, se questi due valori fossero molto vicini potremmo concludere che in realtà era abbastanza incerto se quello fosse una classe oppure l'altra. Quindi insomma come vedete è una tecnica molto semplice, quindi abbiamo solo dovuto costruire il file, in questo caso nemmeno l'abbiamo dovuto costruire, ce l'ha dato Google, tutto il resto se ne è occupato le prediction API e abbiamo tra l'altro ottenuto un risultato abbastanza elegante, quindi un programma che dato una stringa riesce a dirci in che lingua è scritto questo testo. Per farvi vedere come questo genere di approccio può portare anche a cose molto più sofisticate, volevo farvi vedere un secondo caso d'uso, molto semplice, quindi stiamo sempre parlando di classificazione, in cui però quello che vogliamo fare è predire il genere musicale di una canzone. Voglio farvi vedere come il procedimento una volta scelto il file di testo è esattamente uguale e si può utilizzare esattamente nella stessa maniera, quindi un approccio molto molto generale e molto molto potente. Quindi state scostruendo una qualche applicazione che gestisce una libreria musicale e a un certo punto avete deciso di inserire una qualche genere di intelligenza, chiamiamola così nel vostro programma, quindi volete che il vostro programma suggerisca all'utente che inserisce una nuova canzone di che genere è quella canzone, quindi se gli dice ad esempio secondo me questa è una canzone pop oppure secondo me questa è una canzone rock, questa ovviamente non è una cosa facilissima perché è una cosa su cui anche degli umani si potrebbero un pochino incartare, quindi ci limitiamo semplicemente a qualche genere piuttosto vago. Tra l'altro qua abbiamo un problema leggermente opposto al caso di prima, quindi nel caso di prima scegliere cosa dare in input al sistema era facilissimo, noi volevamo predire la lingua di una stringa quindi gli passiamo la stringa. Costruire il dataset, quindi il file di testo era un pochino più lungo perché dovevate collezionare i vari testi, dovevate annotarli a mano, dovevate scrivere se quello è inglese, se quello era francese, dovevate cercare di bilanciare fra le varie classi, in questi casi se il file è molto molto grande potreste appoggiarvi ad esempio a uno strumento di crowdsourcing, in questo caso avete il problema opposto, quindi trovare un dataset in realtà è abbastanza facile perché se voi siete appassionati musicali sicuramente avrete qualche decina se non centinaia di canzoni sul vostro computer che sono già annotate, quindi su cui avrete già assegnato il genere musicale. Se non l'avete fatto potreste appoggiarvi ad esempio a last.fm dove è pieno di questo genere di dati. Scegliere in realtà cosa dare in input al sistema invece è tutt'altro che semplice perché un file, da cos'è composto un file musicale? È composto da qualche milione di campioni musicali, è chiaramente sconsigliato passare 3 milioni di input al vostro sistema, uno perché il singolo input in realtà è il singolo campione del file non vuol dire quasi niente, se io vi faccio sentire anche solo una nota non so quanto vi possa dire del genere di una canzone, due perché potete pensare che se metto insieme un dataset di qualche migliaio di canzone questo comincia a occupare qualche decina di gigabyte, caricarlo sul crowdsourcing e allenare il vostro sistema diventa piuttosto costoso. Quindi quello che si fa in questi casi è aggiungere un blocchetto in cui voi dalle vostre canzoni tirate fuoco dei descrittori, dei parametri che a livello statistico descrivono la vostra canzone, quindi faccio un paragone abbastanza azzardato, ma come nel caso di una nazione voi potete descrivere ad esempio col PIL, con l'indice di disoccupazione, con questo genere di indicatori piuttosto ad alto livello, potete descrivere una canzone con degli indicatori ad alto livello come alcuni indicatori che riguardano il contenuto in frequenza di questa canzone, quindi se ci sono molti valori a basse frequenze o ad altre frequenze eccetera eccetera. In questo caso io ho utilizzato un dataset che era già costruito, che viene utilizzato in ambito di ricerca, queste sono tematiche che comunque sono ancora molto ricercate, in cui ci sono diverse migliaia di canzoni rappresentate da 49 valori, quindi molto misti, sia temporali, energetici, di frequenza, molti valori, che nel caso pratico potete semplicemente estrarre con una qualche libreria musicale. Se andate sul sito che vi linko potete effettivamente scaricare mi pare Yale, un programma che vi permette di estrarre queste 49 feature dalla vostra canzone. In output avete nuovi generi, quindi volete sapere se la vostra canzone è alternative, blues, pop, non ricordo, elettronica, non ricordo quali sono gli altri generi. Quindi un... tra l'altro ecco qua vedete veramente che se vi vorreste fare questo e insomma vorreste farlo a mano, non dico che è impossibile, ma è veramente difficile, quindi mettervi voi a lavorare sulla canzone a mano per decidere con un algoritmo diciamo più classico se è pop o se è rap. Quindi vediamo come se raccava il programma. Qua abbiamo caricato, non vi faccio vedere tutte le slide, tutti i passi, ho caricato il file sul cloud storage, ho chiamato l'allenamento, ho aspettato che fosse determinato, ho fatto la chiamata a GET per sapere i vari dati e qua mi dice che è stato allenato su 595 canzoni, quindi ho preso solo un piccolo sottoinsieme del dataset che comunque dava un'accuratezza più o meno comparabile, mi dice che ci sono 9 classi in uscita e mi dice che più o meno azzecca il 60% delle canzoni, che sembra molto di meno ma in realtà è un valore molto molto alto, quindi vi posso dire che è uno dei valori più alti che si raggiunge oggi nell'ambito della ricerca su questo dataset. Chiaramente questo in realtà è un task molto più soggettivo, quindi arrivare al 90% è quasi impossibile. Tra l'altro è probabile che se voi volete inserire questa feature in un vostro programma non vi aspettate la perfezione, vi aspettiate solo che nella maggioranza dei casi più o meno dia un suggerimento corretto, se non proprio corretto, vicino all'essere corretto. Quindi comunque voglio dirvi che anche se il task è molto difficile, anche se lo strumento è completamente automatico, se la cava più o meno allo stesso livello di altri strumenti che vi richiedono molta molta più fatica a scegliere il modello e a scegliere come allenarlo, a scegliere i vari parametri eccetera eccetera. Andiamo a fare una prova, qua ho preso una canzone che non avevo utilizzato per l'allenamento, è un estratto della colonna sonora del film The League of Extraordinary Gentlemen, si chiama Move On, è più o meno genere hip hop, è segnata tra l'altro così nel file di allenamento e qua effettivamente il sistema zecca l'uscita e quindi mi dice che questa canzone secondo lui è rap hip hop e poi mi passa tutta una serie di score per tutti gli altri generi. Tra l'altro in questo caso è abbastanza sicuro che sia rap hip hop, quindi possiamo anche essere abbastanza tranquilli su questo. In questo caso tra l'altro potremmo utilizzare questi confidence score e prendere ad esempio i tre più alti, prendendo i due o tre più alti saremmo quasi sempre sicuri di in quei due o tre avere la classe corretta che ci aspettavamo per quella canzone. Prima che passo a farvi vedere qualche funzionalità un pochino più avanzata, se avete qualche domanda su questi due esempi per non fare direttamente alla fine, prego. La domanda è quanto tempo è impiegato per allenamento? Sicuramente non lo so, andiamo a vederlo. Circa un minuto, quindi da 47 e 52, 48 e 43, erano circa 500 canzoni, quindi il file era molto piccolo, un paio di megabyte. Comunque ha delle prestazioni molto notevoli, di solito non ho mai fatto prove in cui hai ceduto i 10 minuti su file molto molto grossi, quindi è molto molto performante. Altre domande? Prego. C'è un limite sull'input dal numero di esempi o il numero di feature? Sul numero di feature è interessante la domanda perché in realtà in ambito di ricerca si consiglia di scegliere le feature corrette. Google è completamente automatico e quindi vi dice tu passami quante più tu puoi. Quindi effettivamente se andate sul sito di Google leggete che il consiglio è passare quante più feature avete e poi sarà lui a occuparsene in automatico. Non so se c'è un limite teorico a quante feature potete passargli, ma in pratica credo che non lo raggiungereste mai. Tra l'altro non ho fatto l'esperimento a passargli proprio la canzone come campioni più o meno perché avrei parato troppo, diciamo. Però forse sarebbe comunque riuscito a ottenere qualche risultato decente con qualche tecnica più avanzata, perché credo che abbia tanti modelli al suo interno, quindi cerca di scegliere quello più adeguato anche al numero di feature. Altre domande? Allora si paga un fee al progetto, quindi si pagano 10 dollari al mese per ogni progetto che utilizzano le prediction API. Si paga al numero di predizioni, quindi voi avete 10.000 predizioni che sono incluse nella fee e poi pagate 50 centesimi ogni 10.000 predizioni. Quindi se fate 50.000 predizioni sono 2 dollari e mezzo. Se togliete il modello? Sì, sì, ovviamente. Ah, beh, sì, sì, il modello è legato al progetto. Tutto l'applicazione sarà all'interno del progetto. Cioè se ad esempio fate un sito web che sta sul App Engine, lo sarà nello stesso progetto. Beh, sì, 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 si pagano quei 10 dollari comunque a progetto. Ah, poi costa, sono due millesimi di dollaro per analizzare un megabyte di dato e una cosa che mi ero dimenticato prima è che nel momento in cui caricate il file sul cloud storage ovviamente pagate il cloud storage. Quindi se il file è molto molto grande voi non avete mai usato il cloud storage dovete pagare quella fee. Comunque insomma è abbastanza economico rispetto alle centinaia o migliaia di dollari che costerebbe una licenza professionale, che ne so, di Microsoft Business Intelligence. Posso dire Microsoft durante la presentazione? Eh? Eh, ovviamente, sì. No, questa è l'accuratezza generale del modello. Quindi questo vi dice che in generale lui crede che nel 59% dei casi, qualsiasi sia l'input, 60 volte su 100 darà la risposta corretta. Sì? Questi sono solo due, ce ne sono nove ovviamente. No, e questi sono probabilità, quindi sono mano ad uno. Quindi in questo caso ci sono nove classi. No, no, quello rappy pop è sicuramente il più grosso perché è su questo che si basa l'algoritmo. Cioè lui calcola questi score, prende il più alto e quello più alto ve lo dà qua come output label. Però queste sono probabilità che sommano a uno. Quindi chiaramente ci sono nove label in uscita, raramente saranno alcuni a zero. Quindi anche se gli altri sono al 10-5%, con nove ovviamente qua viene più piccolo. Però basta vedere la differenza fra questo e rock che era quello subito prima, è circa del 3% che non è pochissimo. Quindi un pochino di sicurezza, un margine di sicurezza ce l'avete. Non so se avete altre domande, se no vado avanti. L'ultime due, se no poi non facciamo in tempo. Il problema è che le tecniche tradizionali ce ne sono 10 milioni. In letteratura sul machine learning ci sono decine di modelli, decine di maniere di combinare il modello, decine di maniere di allenarlo. Quindi diciamo che dalla mia esperienza in media raggiunge il top. Quindi se voi vi metteste a utilizzare una tecnica qualsiasi, che magari conoscete del machine learning, quindi ad esempio sfruttando uno strumento, posso dire Microsoft Business Intelligence, tipicamente Google essendo completamente automatico, avendo la potenza di poter provare tanti modelli subito, se la cava meglio. È possibile che esista qualche modello talmente ottimizzato dall'esperto, chiaramente qua c'è l'esperto di machine learning che andrà meglio. Questo è uno strumento fatto per chi non conosce il machine learning e quindi ha bisogno di qualcosa di automatico. Quindi sì, è sicuro che non io, ma se qualcuno con vent'anni di esperienza qua si mette a fare tutte le modifiche necessarie, magari potrebbe arrivare al 62%. Comunque è comparabile. Quindi non ho visto casi in cui aveva un'accuratezza talmente più bassa delle altre tecniche. C'era un'ultima domanda? Questo ci arriviamo dopo, tra le funzionalità avanzate vediamo come tagliare, o comunque lo accenno, non ve lo faccio vedere. Sì, sì, sì. No, questo è l'output completo, quindi non potete avere più output di questo. Qui è tutto quello che potete avere su questo modello. Quindi niente curve rock, cose strane, solo un'accuratezza che è un'accuratezza di classificazione nel caso di classificazione e un errore nel caso di regressione, ovviamente. L'ultima domanda? Bella domanda. La domanda è se qualcuno ha testato, ad esempio, con questo dataset che è un dataset di benchmark con tecniche standard. Personalmente no, non sono a conoscenza di questo genere di studi. Tra l'altro mi aveva interessato mentre li utilizzo, però i dati che vi ho dato sono relativi alla mia esperienza. Non ho visto, è probabile che qualcuno l'abbia fatto, ma non lo conosco. No, 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 no. Non so se qualcuno ha fatto uno studio in cui dice su questo studio, anche perché il problema è che, ripeto, ci sono talmente tante altre tecniche, ad esempio, su GarageBand, che è il dataset che ho utilizzato, ci saranno decine e decine di studi. Mettersi là e tutti utilizzano delle maniere un pochino differenti di valutare l'accuratezza. Il problema qua è che, tra l'altro, il modo in cui è calcolata l'accuratezza non è detto da Google, almeno io non l'ho trovato. Quindi lui vi dice che nel 59% dei casi crede di essere corretto, corretto, però la maniera proprio implementativa in cui è calcolato questo non è scritta da qualche parte. Però se si vuole allenarlo con quegli altri dati, sì, questo si potrebbe fare, però il problema a questo punto è che si dovrebbero implementare tutti i modelli già esistenti in letteratura e nessuno, credo, abbia mai fatto uno studio di questo tipo. Cioè, ad esempio, per GarageBand dovremmo implementarci 50 modelli solo per GarageBand per andare a confrontare sugli stessi dati, perché non potremo sostanzialmente utilizzare i valori scritti negli articoli originali. Questo è un pochino, da una cosa... Comunque, se vuole, poi possiamo continuare il discorso più tardi. Io vado un pochino avanti, se no non concludiamo più. Vediamo alcune piccole funzionalità avanzate. Qua andrò rapidamente, sono qualche aggiunta per migliorare tipicamente le performance. Quindi una cosa interessante, ve l'avevo detto all'inizio, c'è la possibilità di eseguire un'azione di aggiornamento, quindi di dare nuovi dati al modello. Anche questa è relativamente semplice, quindi dovete passare l'ID del modello, in questo caso Music Classifier, avevo chiamato il mio classificatore musicale. Dovete passare l'input del nuovo esempio e l'output del nuovo esempio. In questo caso abbiamo 49 feature relative a una canzone che sinceramente non ricordo e gli stiamo dicendo che questa canzone è pop. Quindi gli passate questo nuovo input, lui lo aggiunge al modello, lo riallena, lo migliora, non lo so. Facendo una nuova chiamata a get potete sapere se la vostra accuratezza è aumentata oppure no. Tipicamente passandogli tanti nuovi dati, l'accuratezza dovrebbe almeno aumentare un pochettino. La particolarità è che Google considera i nuovi dati migliori, quindi cerca di dare più peso ai nuovi dati di quanto non dia i vecchi. Se questo non è desiderabile dal vostro punto di vista nella vostra applicazione, dovete ricostruire il file di training e riallenare il modello, quindi non c'è alternativa a questo. Una seconda cosa che in realtà io trovo molto interessante è che Google vorrebbe creare una vetrina di prodotti, di modelli già allenati. Quindi al momento attuale ci sono tre modelli che voi potete già, come abbiamo visto tra l'altro per le applicazioni di cui potete già fare il deploy, in questo caso anche per uso commerciale credo in futuro, c'è un analizzatore di frasi di Twitter per determinarne il mood che potete utilizzare come demo sul sito di Google. In questo caso c'è un API differente che è sempre predict, ma non è il vostro modello, ma è un hosted model. E nel futuro, questa è una frase scritta sul loro sito, si vorrebbe creare un vero e proprio market di questi modelli. Quindi se voi avete un modello che avete allenato e funziona molto bene, oltre a utilizzarlo nella vostra applicazione, potete darne un accesso a pagamento agli altri utenti, quindi monetizzare anche su questo aspetto della vostra applicazione. Solo per darvi un quadro generale, questo è un estratto di una classe che utilizza l'SDK delle prediction API. Chiaramente in questo caso dovete occuparvi di inizializzare il transport HTTP, il manager JSON, queste cose non le ho scritte qua perché non erano proprio relative alla presentazione, però la seconda parte è praticamente uguale a quello che abbiamo visto prima. Quindi avete un oggetto, una classe prediction che si occupa di gestire tutta la comunicazione con le prediction API. Una classe input e una classe input-input che in realtà sono generali a tutto il cloud di Google, quindi input è una feature del vostro modello, del vostro input. Input-input, che è un nome un po' strano, è l'intero input, quindi se avete 10 o 49 feature come nel caso di prima, avreste un input-input che ha 49 feature. A questo punto potete semplicemente chiamare come prima trainedmodels.predict in cui voi gli passate l'id del vostro modello, che è una stringa alfanumerica, il vostro input, eseguite e ottenete un output che contiene nuovamente la predizione e i vari score e che quindi potete utilizzare all'interno del vostro programma più complesso. Tra l'altro è interessante perché l'utilizzo dell'API è abbastanza semplice, come abbiamo visto, è molto standard, quindi in realtà quasi sempre questo codice si copia e incolla, sono poche le modifiche che vengono fatte, magari c'è qualche modifica se avete qualche differenza di comunicazione, però è raro che sia da modificare tanto questo template standard, diciamo. Quindi in realtà lo starting time per utilizzare queste API è veramente basso, una volta che avete capito come funzionano. C'è qualche altra funzionalità che non ho messo perché volevo lasciare più tempo per le domande, però è molto semplice, quindi c'è la possibilità di eseguire richieste in batch, quindi al posto di chiedere n predizioni diverse potete chiedere tutte insieme, pagate come n predizioni diverse però migliorate le performance. Una seconda cosa che mi avevano chiesto e non avevo risposto, sì c'era possibilità, no non era questa, in realtà la domanda era opposta prima, cioè c'è la possibilità di chiedere una risposta parziale, quindi se voi per questioni di performance volete solo sapere ad esempio l'accuratezza di classificazione e non volete sapere tutto il resto, potete fare una richiesta get dicendogli di passarvi solo l'accuratezza di classificazione, non tutti gli altri campi. Se siete in ambienti in cui la comunicazione e le performance sono essenziali, questo può migliorare di molto le vostre performance. Però no, non c'era possibilità di avere altre informazioni rispetto a quelle, c'era possibilità di avere qualche informazione per rispondere a prima sul dataset, quindi c'è una chiamata che non abbiamo visto che vi permette di analizzare il vostro dataset, quindi valore medi, varianze e così via. Terza cosa, forse la più avanzata, che non vediamo, c'è la possibilità di creare delle trasformazioni del vostro input in un linguaggio XML che viene detto Predictive Model Markup Language, che è stato sviluppato dal Data Mining Group, che non vediamo qua, insomma per chi l'ha già utilizzato in altri contesti è un linguaggio molto potente e quasi totalmente integrato all'interno delle prediction API. In conclusione, mi piace dire in conclusione, scommetto che piace anche a voi, questo è un grafico del traffico mobile previsto da Cisco nei prossimi anni, che ho estrapolato da un report dell'anno scorso, tra l'altro Cisco è abbastanza stringente su quello che considera mobile e quello che non considera mobile, però più o meno il trend, sono tutti d'accordo, ovvero il traffico web mobile aumenterà molto molto rapidamente, Cisco dice che passeremo da circa un exabyte a 10 exabyte in 3-4 anni. Cosa vuol dire questo? Beh, in questo traffico c'è, lasciatemelo dire, tutto quello che vorreste conoscere sugli utenti delle vostre applicazioni, quindi in questo traffico c'è scritto quali canzoni piacciono ai vostri utenti, quali pagine visitano, quali prodotti comprano, con chi parlano, dove vanno, c'è tutto qua dentro. Il problema è che questi sono terabyte di dati e analizzare a mano, trovare a mano le relazioni tra i vostri terabyte di dati è molto molto difficile, ma credo che le prediction API possano aiutarvi in questo e quindi possano aiutarvi a capire meglio i vostri utenti. Ad esempio, qualsiasi sito di e-commerce oggi utilizza il machine learning e questo genere di tecniche per scegliere che prodotti consigliare agli utenti, quindi ho visto che hai comprato questo libro, ti potrebbe piacere quest'altro libro. Questo è fatto con tecniche di machine learning e era un pochino la conclusione, in particolare ci siamo dimenticati dello sviluppatore web che ancora non ha previsto il suo traffico web. Qua vi lascio qualche link, se poi scaricherete le slide, quindi c'è il sito ufficiale del developer group di Google, scusate, il developer site di Google, dove potete leggere più informazioni sulle prediction API, c'è il secondo sito che è quello sul tutorial sulla classificazione linguistica che abbiamo visto come primo caso d'uso, se proprio proprio siete interessanti vi ho lasciato anche due link di libri sul machine learning, se volete approfondire. Vi ringrazio per l'attenzione e per le domande. Non so se sono avanzate domande rispetto a prima. Sì? Non li riconosce? La domanda era se passiamo una data da quello che sto io, non so se poi internamente riesce a riconoscere, questo è perché gli inner working dell'algoritmo non si conoscono. Per Google quello che vi dice è che i dati possono essere solo numerici o solo testuali, quindi se poi quelli testuali hanno un formato che per voi ha una semantica, non so se Google riesca a riconoscere questa semantica. Chiaramente le stringhe sono più difficili da utilizzare, sì. Oh sì, la data si può mappare in un giorno, in un mese, in un anno, chiaramente è più facile, questo è vero, è più facile lavorare con tre numeri che non con una stringa che rappresenta una data. Però si sono evoluti molto, quindi secondo me è anche possibile che alcuni tipi di dato riesca più o meno a riconoscere la sua semantica. Anche se sì, è meglio cercare di avere dati con meno varianza possibile, cioè ad esempio non passare dati che possono avere 10 milioni di possibili valori. Quanto fatturerà domani rispetto al fatturato storico? Beh, è più o meno una predizione di serie come prima, quindi sicuramente che... Beh, dovrebbe tentare di dargli tante variabili per poter scegliere, chiaramente un importo per scegliere l'importo successivo è molto difficile. Quando si fa predizioni di serie temporali, come può essere un fatturato, si cerca di passare una finestra temporale abbastanza larga, quindi ad esempio gli ultimi 10 mesi, quindi 10 numeri... Ebbene, gli può passare uno di seguito all'altro senza specificare quando è quella data, diciamo il fattore temporale viene estrapolato all'interno del modello, non so se capisce quello che intendo. Ad esempio prima, nel caso del traffico web, io gli potrei passare 7 valori che riguardano gli ultimi 7 giorni, senza un particolare ordinamento, quindi quelle sono 7 feature per lui, che internamente verrebbero utilizzate per... tipicamente verrebbe dato più peso in automatico a quelli dei giorni più vicini ad adesso, questo è sicuro, però non c'è un modo di collegare, di avere un senso temporale ai vostri dati, questo no. La prima colonna è l'output, sì. Vi regola tutti gli input che ritenete utili solo un giorno, ma la data non è molto utile perché la data cosa vi identifica? Cioè solo una data cosa vi identifica? Niente. Cioè cosa posso estrarre da una data? Come posso generalizzare a partire da una data? Lei dovrebbe passare un importo. Esatto. L'input è il numero di visitatori nei giorni passati. Quindi ad esempio i visitatori ieri, i visitatori l'altro ieri, quindi sarebbero sei o sette numeri. Il fatto che quelli siano ieri l'altro ieri lo sapete voi. Le righe, una riga per ogni esempio. Quindi ad esempio se avete tutti i dati di marzo potreste fare i primi sette giorni in input, l'ottavo come output. Quindi quella è una riga. Poi dal secondo all'ottavo giorno come input e il nono come output. E quella è la seconda riga. Dal terzo e così via. E otterreste circa ventisette esempi. Perché? Perché in un mese dovreste predire ventisette giorni ogni giorno praticamente. Quindi avreste ventisette esempi. Su due anni ne avreste duecento e passa. Più chiaro? Altre domande? Ma credo che stiamo finendo il tempo perché mi stanno prestando dal lato? No. No no. Prego. Allo stesso input e output differenti? Beh comunque sono molto molto robusti agli errori. Quindi sia che ci siano degli errori nel vostro input, sia che ci siano degli errori nel vostro output, poiché tipicamente gli passerete tanti esempi. Chiaramente dovete cercare di essere il più espansivi possibile. Negli esempi questo genere di strutture è molto resistente. Sia il rumore, sia gli errori, sia le mancanze. Le mancanze in realtà credo che in questa versione 1.5 non siano ancora supportate. Quindi non potete credo passare ancora input vuoti. Però credo che da qua a poco verrà integrato anche questo genere di comportamento. Quindi per essere il più robusto possibile. Altre domande? Ho visto una mano, si è ritirata? Il? No, quello utilizza una distanza diciamo furba, fatta credo a mano, si chiama edit distance. Quindi va semplicemente a vedere quanto sono più vicine tutte le altre. Se quella parola esiste diciamo e quanto sono vicine tutte le altre parole. Quindi diciamo è molto meno smart. Però Google c'è tanti altri, per dire ad esempio come vi ho detto sul cloud. Il cloud di Google è talmente grande che sicuramente ha delle tecniche di machine learning al suo interno per predire quante visitatori avranno le varie applicazioni. Google ha un dipartimento di machine learning che è tra i più grandi al mondo. Ha fatto la macchina che si guida da sola, ha fatto diversi risultati molto importanti in ricerca in questi periodi. Quindi è all'avanguardia, è uno di più all'avanguardia. Google Translate, sì sì sì. In quanto a machine learning ci sono pochi concorrenti al livello di Google. E lo posso dire perché io non c'entro con Google. Altre domande? Poi abbiamo finito. Grazie. Grazie a tutti.